Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcero in me Io mi chiamo Gaffiero Pasquale e sto a un poggio reale dal 53 E al centesimo cadenaccio, alla sera mi sento uno straccio Fortuna che al prezzo speciale c'è un uomo geniale che parla con me Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi, cornuti all'acchè Tutte loro con sta fedenzia che sputa minaccia sa piglia con me Ma alla fine ma sento papà, il bottone mi leggo il giornale Mi consiglio con Don Rappai, mi spiega che pensa e bevimbo caffè Ah, del bello caffè, pure in carcelo sanno qua Qua ricetta che ci ci ridenta, compagni di cella c'ha nato mamma Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo è stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde Quell'uomo certissimo e immenso, io chiedo consenso a Don Rappai Un galanto uomo che tiene sei figlia, che è che una casa ci danno con signo Grazie